Ciao ragazzi, benvenuti a questo live, sono qui con Krix Ciao Stiamo per fare un saccheggio alla città d'Ottone A caso così Abbiamo aspettato tipo tutto il pomeriggio di trovare una mappa nuova Perché tutti i video sono sempre su mappe vecchie Però non escono mai, allora... Quindi vi beccate una mappa vecchia Però le persone non le facciamo di solito di video qua Sì, appunto Quindi Speriamo che non ci sia gente troppo immortale, visto le ultime partite che abbiamo fatto Gente che gli spari tipo 6 o 7 scariche di Gmall e continua a andarsene via tratterellando Guarda, guarda quello, già, spara a caso Dai, assist Ah, ma non, ma... Ah, ma sta precipitando Sto precipitando Sto precipitando Sto precipitando Sto precipitando Dovevo andare subito Dovevo andare subito verso il tele a portare da la 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 A portare il tesoro invece voglio Ho provatemi tagliarlo C'è uno col sasso Sì, è notato Sì, è notato Vuoi una granata alla sopra Ma io C'è uno squadra sicuro, no? Non posso buttare la granata così Scusate la sgamata No vabbè, tanto Basta che muo Quella era quello col sasso C'è il mio tesoro di sopra Io voglio andare a prendere il tesorino Te lo prendo io Te lo prendo io Ma sono caduto di nuovo sto gioco di merda Perché salti? No, perché salti per andare ad aggrapparti Non lo strozza, non lo strozza, non lo strozza Ah, prima erato la kill dopo tre ore Però? Non lo so Oh, è comparsi cosa per strozzare e vedessi se l'ha strozzato Ero... ti guardavo da sotto Poi mi ero tra la kill non per i colpi di Paranove Ma perché lui si è fatto esplodere con la stessa granata Perché è furbo Non mi piace questa mappa Guarda, adesso faccio come loro Vado lì però con la Paranove e gli spara a caso, guarda Vabbè, io ho anche spara a caso con la Paranove, non è che Però il bello della Paranove è che si può usare bene sia sparando a caso Che Miranda Sì, ma ascolta, non è una genialata quella che stai facendo Io ho il coso per portare tesori veloce Ma... Dove è il tesoro? Do... È sparito il tesoro! Ma ce l'avevi chiaramente in mano Qua stavo per lanciare? È scomparso Ah, è riapparso dall'altra parte della mappa Della serie questo gioco non dà... Non aiuta sempre comunque la squadra avversaria, no? Ma certo! Stessa distanza dalla granata Io mi sturno Lui no E poi mi decide Giustamente Ovvio E' questo è baggato Ma... 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 Eh, ho capito, non so, sto ancora sparando Sì, sto trasparando Ma rimanendo... Dai, sparisci di nuovo tesoro tanto, mi ha capito che devono vincere l'ora per forza Ma mi fai raccogliere questo tesoro? E' to' raccogliere Oh... Guarda come vi fai se c'è stato certo ho fatto la terza volta che provosti salto c'è la fa aiutare il bo sicuro se la canva attualmente perchè io guardo in questo modo stupido ma che cazzo ti senti cogliene di merda si vede non lo so io ho stento o se uccido una persona completamente immortale e finalmente riesco a ucciderla o se faccio qualcosa di assurdo e impossibile non a caso non ho fatto niente di particolare stavo guardando da un'altra parte e mi ha ucciso che c'è da stentare madonna mia questo è il sasso ha fatto il coso per lanciare la granata ovviamente non l'ha lanciata e lui mi ha ucciso con un colpo di sasso e questo sta avuta nel vuoto per culo non è caduto e adesso lo sasso, ecco che ti ho detto questo lo sasso, è morto no, ti ho dato una mega bomba ma che cazzo non si appende sto gioco no, sta mappa non va bene per me perchè provi salti e continuo a precipitare nel lì ne ho troppi davanti e una cosa cioè ma no ma tanto puoi anche uccidermi col sasso da più lontano no? tanto? fai pure beh comunque siamo 3 a 0 lo vero se ho capito madonna mia era praticamente enel al sul fondo del della città d'otone e lui mi è ucciso sul fondo eh perchè sta rincazuto giù se prendendo una plana cazzo e se c'è ucciderti nonostante che io la stavo mitragliando ma lei ha il dono del ladro quindi lei può lei è più forte basta no 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 eh te l'ho detto e ha preso te un altro prima c'ero riuscito eh ma c'è un drake davanti ma è sparato ahahah ma perchè ma perchè ho capito sbagliare i salti ma quello non si può fare eh eh risaputo è evidente oh merda cosa c'era un appeso dove siamo passati eh dove siamo passati dove? siamo appena passati ah si ce l'ho ok è sceso adesso muore sto mitragliando da sotto vado non procuriamoci neanche eh è già finito è già finito madonna che schifo sono che schifo foto 5 6 io ho fatto 8 6 ne ho fatto 2 ebbè che ho portato subito il tesoro però 2 par 2 no una morte l'ho fatta cadendo giù e una morte l'ho fatta in modo completamente impossibile per contizioni mi ha sassato da tipo 5 metri vabbè io ne ho fatte 3 o 4 così cadendo nel nulla vabbè hai esce anche te il video finisce qua chiudiamo spero vi sia piaciuto eh niente direi che ci sentiamo al prossimo video ciao ciao il piano no non lo so non lo so no 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 ho chiesto soltanto che mi pare di aver letto che un tizio è arrivato al centesimo piano e passiamo al 16 e stiamo già crepando di che favore ciao ciao